Salve ragazzi e cari amici del web, mi trovo a Sibu in una zona molto particolare, la zona delle palafitte lungo il fiume ed è una zona molto in fausta perché è avvenuto da poco un incendio e ha bruciato tutto questi sono i resti delle palafitte adesso l'incendio ecco si è sviluppato su tutti e due i lati della strada che la percorre ed è arrivato fino a quella zona di demarcazione dove poi si sono salvate le case che vanno oltre. Ecco qua nell'altro lato visto che c'era ancora qualcuno che frugava tra le ceneri cercando i propri effetti personali quello che è rimasto chiaramente perché qua veramente è andato bruciato tutto un peccato esprimo la mia solidarietà con la gente del posto che vive in maniera molto semplice ma anche sono sottoposti a avvenimenti in fausti come questo mi ricorda l'incendio di Mosca del 1812 era facile quando le città erano fatte interamente di legno con le isbe le dace quelle costruzioni lì allora era facile che si sviluppassero degli incendi che coinvolgevano la città intera ecco questo un po' anche quanto è avvenuto qua ecco sta arrivando un piccolo tsunami ok ragazzi io vado oltre e ci sentiamo dopo ciao